Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 101 del 2016, lotto 5. Piena proprietà di terreno parzialmente edificabile. Sito in via San Pietro, Ronca. Prezzo base, 24.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Ruotolo, 0458 003495. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 119 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione schiera con corte di pertinenza esclusiva e annessi locali cantina e ripostiglio al piano scantinato. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa posta al sempre piano scantinato, con spazio di manovra esclusivo. Sito in via Catullo 4, Castelnuovo del Garda. Prezzo base, 234.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 novembre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Anna Maria Reami, 0457302430. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 151 del 2017, lotto unico. Compendio immobiliare costituito da casa di abitazione in linea su due piani fuori terra oltre ad appendice su un unico piano, vani accessori ed aria esterna di pertinenza esclusiva. Autorimesse. Foglio di mappa 17 Map 350 Sub 2 Catastale. C barra 6, Map 378 Sub 1 Catastale. C barra 6. Sito in via Roma 103, 105, Minere. Prezzo base, 78.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.40. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Francesca Cappellin, 0458010344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 213 del 2015, lotto unico. Piena proprietà di abitazione al piano primo con corte esclusiva al piano terra. Foglio di mappa 19 Map 467 Sub 11 Graffato con map 517 Sub 2 Catastale. A barra 2. Sito in via Ragazzi del 99.6, Bovolone. Prezzo base, 39.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Venceslao Buffatti, 0458766000. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 217 del 2017, lotto unico. Piena proprietà fabbricato ad uso abitativo da terra cielo su tre piani fuori terra e di piccolo cortile ad uso promiscuo. Foglio di mappa 19 map 43 Sub 2 graffato con map 122 Catastale. A barra 3. Quota di un mezzo, un mezzo, di piena proprietà di autorimessa con adiacente piccola area esclusiva. Sito in via Roma 72, somma campagna. Prezzo base, 132.000 euro. Quota, piena proprietà. Quota di un mezzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Erika Franchetto, 0458031737. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 235 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano terzo sottotetto. Sito in via Cristoforo Colombo 1, Vovolone. Prezzo base, 56.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Edoardo Rossi, 0458011770. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 275 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di unità immobiliare ad uso residenziale su tre livelli, con annessa corte esclusiva e pertinenziale autorimessa e il tutto in corso di costruzione. Sito in via Fornasa 56, Veronella. Prezzo base, 112.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Paolo Malizia, 045595586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 276 del 2017, lotto unico. Appartamento. Accessorio autorimessa. Sito in via degli Emili 28, Isola della Scala. Prezzo base, 66.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ruberto, 04559800. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 290 del 2017, lotto unico. All'interno di un piccolo contesto condominiale, piena proprietà di appartamento al piano primo con annessa cantina al piano seminterrato. Sito in via Monti Lessini 99 barra A, Verona. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Tommaso Trevisiol, 045576818. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 297 del 2014, lotto uno. Piena proprietà di villa su tre livelli composta di complessivi 11,5 vani catastali. Piena proprietà di autorimessa al piano interrato della superficie catastale complessiva di metri quadrati 67. Sito in via Capitello 10 barra F, Sevio. Prezzo base, 317.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 settembre 2018 alle ore 17. Luogo della vendita, Vicolo Oratorio. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Ruotolo, 0458003495. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 303 del 2017, lotto unico. Appartamento al piano secondo. Garage al piano seminterrato. Sito in via Sanguane 14 barra A, Arcole. Prezzo base, 92.300 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2014, lotto 2. Piena proprietà di abitazione disposta ai piani terra, primo e secondo sottotetto. Piena proprietà di tre rustici ad uso magazzino e deposito, con corti di pertinenza e di manufatto né un accattastato né autorizzato. FG 75, MAP 448, sub 3, 4, C barra 2. Sito in via Betone 47, Isola della Scala. Prezzo base, 66.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Riccardo Bidello, 045594021. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 331 del 2017, lotto 1. Piena proprietà di terreno edificabile in zona industriale. Sito in via Galilei, San Pietro in Cariano. Prezzo base, 173.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lorenzo Dallarosa, 0458013006. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 331 del 2017, lotto 2. In prossimità della località Capaletta, piena proprietà di terreni agricoli, con potenziale vinicolo pari a 4.100 metri quadri per Valpolicella Doc Classico. Sito in località Capaletta, Negrar. Prezzo base, 150.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lorenzo Dallarosa, 0458013006. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 331 del 2017, lotto 3. Piena proprietà di terreno agricolo. Sito in località Giarette, Rivoli Veronese. Prezzo base, 18.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lorenzo Dallarosa, 0458013006. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 342 del 2014, lotto 1. Piena proprietà di appartamento al piano primo. Sito in via Garibaldi 2, Boschi Sant'Anna. Prezzo base, 66.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, 0458031082. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 342 del 2014, lotto 2. Piena proprietà di appartamento al piano primo con annessi e tre cantine, un disobbligo e una lavanderia al piano interrato. Sito in via Garibaldi 2, Boschi Sant'Anna. Prezzo base, 84.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, 0458031082. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 342 del 2014, lotto 3. Piena proprietà di unità immobiliare al piano terra, catastalmente ad uso negozio, ma di fatto in fase di avanzata ristrutturazione per diventare appartamento, la cui dia è scaduta, oltre a locali ad uso deposito, foglio di mappa 6 map 127 sub 4 catastale. C barra 2. Sito in via Garibaldi 2, Boschi Sant'Anna. Prezzo base, 260.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, 0458031082. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 342 del 2014, lotto 4. Piena proprietà di capannone artigianale e con uffici, ivi compresa l'area di insistenza e pertinenza. Sito in via Stradone 6 barra B, Boschi Sant'Anna. Prezzo base, 371.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, 0458031082. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 373 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di porzione di bifamiliare ad uso abitazione disposta sui piani rialzato e scantinato con corte esclusiva. Piena proprietà di porzione di autorimessa al piano terra di edificio poco discosto. Sito in via Giuseppe Mazzini 21, San Pietro di Morubio. Prezzo base, 90.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14 e 30. Luogo della vendita, Camera di Commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federico Morgante, 044224057. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 375 del 2016, lotto unico. Compendio immobiliare costituito da, edificio ad uso residenziale disposto su due piani fuori terra ed un interrato con annesso giardino di pertinenza esclusiva. Foglio di mappa 13 Map 74 Sub 4 graffato con Map 464 Sub 17 Catastale. A barra 7, porzione di ampio capannone industriale adibito a deposito e lavorazione frutta, costituito da diversi corpi di fabbrica adiacenti con annessa tettoia. Foglio di mappa 13 Map 464 Sub 18, 19, 20 Catastale. Di barra 1. Sito in via San Francesco d'Assisi 24, Belfiore. Prezzo base, 825.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 Settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Venceslao Buffatti, 0458766000. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 380 del 2017, lotto 1. In comune di Bovolone, VR, via Valbauzzo numero 53 barra A, piena proprietà di laboratorio artigianale con area esterna di pertinenza. Sito in via Valbauzzo 53 barra A, Bovolone. Prezzo base, 118.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, 0458006861. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 380 del 2017, lotto 2. In comune di Cerea, VR, via Palesella Scuole numero 16, piena proprietà di abitazione al grezzo disposta al piano terra e primo, oltre all'area esterna di pertinenza. In comune di Cerea, VR, via Palesella Scuole numero 16, piena proprietà di autorimessa al grezzo al piano terra. Sito in via Palesella Scuole 16, Cerea. Prezzo base, 72 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, 0458006861 Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 380 del 2017, lotto 4. In comune di Cerea, VR, località Scantinato Vito, via Scantinato Benedetto, piena proprietà di aree urbane. In comune di Cerea, VR, località Scantinato Vito, via Scantinato Benedetto, piena proprietà di terreni edificabili. Sito in via San Benedetto, Cerea. Prezzo base, 896 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, 0458006861 Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 381 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano terzo con annessa cantina al piano Scantinato. Sito in via Ticino 1, Verona. Prezzo base, 65 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 ottobre 2018 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Matteo Corcioni, 0458352511 Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 387 del 2015, lotto unico. Piena proprietà di abitazione al piano terra con annessi locali cantina, centrale termica e portico al piano seminterrato. Piena proprietà di i due pertinenziali autorimesse al piano seminterrato. Piena proprietà di limitrofi terreni pertinenziali. Sito in via Zouane di Sopranove, Rivoli Veronese. Prezzo base, 250 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 ottobre 2018 alle ore 14 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ruberto, 045590800. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 407 del 2016, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano secondo con annesso ripostiglio. Piena proprietà di pertinenziale garage al piano terra. Sito in via della Costituzione 9, Isola della Scala. Prezzo base, 91 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, 0456112089. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 424 del 2017, lotto unico. Fabbricato residenziale in fase di ristrutturazione composto di tre piani fuori terra. Sito in via Palladio 10, Peschiera del Garda. Prezzo base, 677 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, 0458035655. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 427 del 2016, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano primo con annessi due vani sotto tetto. Piena proprietà di cantina e pertinenziale garage al piano interrato, giardino esclusivo ed area urbana ad uso posto auto esterno. Sito in via Villafranca 17 barra C, Vigasio. Prezzo base, 135 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Andrea Parolini, 0458014384. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 431 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione con accesso indipendente, elevata su due piani fuoriterra con annessa corte esclusiva e area urbana. Piena proprietà di terreno di pertinenza. Sito in via Dossetto 22, Nogara. Prezzo base, 52 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Barbara Ferrari, 045592196. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 440 del 2017, lotto unico. Infabbricato condominiale Alfa, piena proprietà di appartamento al piano secondo, collegato con scala interna a tre soffitte al piano terzo sottotetto. Cantina e autorimessa pertinenziale al piano scantinato. Sito in stradella Cadelbisso 3, Verona. Prezzo base, 190 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sara Mischi, telefono, 045, 222, 23, 98, fax, 045, 485, 48, 82. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 443 del 2015, lotto unico. In un contesto di vecchia origine, piena proprietà di porzione di casa a schiera d'angolo su due piani fuori terra, recentemente ristrutturata, e di altra porzione di casa a schiera in linea su due livelli, da ristrutturare, e con piccola corte interna. Foglio di mappa 12 Map 147 Graffato con Map 164, Vicolo Cecos Gala numero 16, Piano T, 1, Catastale. A barra 4. Sito in Vicolo Cecos Gala 16, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 235.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Orani, 0458004670. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 443 del 2017, lotto unico. Infabbricato condominiale denominato Condominio Arcoballeno, piena proprietà di appartamento al piano secondo. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via nuova 1 barra B, Nogara. Prezzo base, 90.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Luca Del Bello, telefono, 045 800 15 54, fax 04 58 04 51 89. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 463 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento. Sito in via attraversa Capitello 9, con camarise. Prezzo base, 55.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marco Bulgarelli, 045 80 30 212. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 470 del 2012, lotto 1. Fabbricato al piano terra a destinazione commerciale e lavorazione prodotti industriali con cortile di pertinenza esclusiva. Sito in via Umberto Boccioni 1, Verona. Prezzo base, 443.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, 045 800 9 450. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 470 del 2012, lotto 2. Appartamento al piano primo. Sito in via Edoardo De Betta 3, Verona. Prezzo base, 71.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, 045 800 9 450. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 485 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano primo. Sito in corso Garibaldi 3 barra E, Vigasio. Prezzo base, 76.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lucio Bonfà, telefono, 04 42 60 17 27, fax 04 42 212 32. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 514 del 2017, lotto unico. In villa trifamiliare, piena proprietà di appartamento al piano terra con annessa cantina al piano seminterrato. Sito in via Corno da Quiglio 10, lavagno. Prezzo base, 296.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cristina Caloi, 3 miliardi 924 milioni 246 mila 577. Tribunale di Verona, Procedura esecutiva numero 522 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di villa su tre piani fuori terra e accessori al piano seminterrato, tra loro collegati da scala interna aria scoperta di pertinenza. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato. Piena proprietà di terreni circostanti coltivati a uliveto. Quota di un mezzo, un mezzo, di piena proprietà di terreno in parte coltivato ad uliveto e in parte adibito a strada di accesso ai fabbricati. Sito in via Torricelle 10, Verona. Prezzo base, 1.761.000 euro. Quota, piena proprietà, quota di un mezzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Zaninotto, 0456151540. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 542 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione al piano secondo con accessorio vano cantina al piano terra. Sito in via Monsignor Fraccari 74, Caprino Veronese. Prezzo base, 75.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marco Moretti degli Adimari, Telefax, 045, 834, 19, 84. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 558 del 2016, lotto unico. Piena proprietà di compendio immobiliare, da ristrutturare, denominato Corte Bevilacqua e costituito da, Abitazione su due piani fuori terra, con accessorio poco discosto su un unico livello, FG4 Map 536 Sub 1 Catastale. A barra 4, magazzino su due piani fuori terra, FG4 Map 536 Sub 2 Catastale. C barra 2, unità collabente, FG4 Map 536 Sub 4 Catastale. F barra 2, area di insistenza e pertinenza dei fabbricati FG4 Map 536, terreni agricoli circostanti il complesso, foglio di mappa 4 Map 299, 535. Sito in via Paina Scantinato numero C, Legnago. Prezzo base, 91.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Guido Trabucchi, 0459-16055. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 578 del 2017, lotto unico. All'interno di edificio di vecchio impianto completamente ristrutturato e costituito da tre unità residenziali, piena proprietà di porzione di casa a schiera su due piani fuori terra, con annessa corte esclusiva. Piena proprietà di pertinenziale garage sito al piano terra di fabbricato separato. Sito in via Chiesa Sabbion 2 barra A, Cologna Veneta. Prezzo base, 121.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Agosto De Beni, 0458-009-450. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 59 del 2013, lotto unico. Piena proprietà di unità abitativa disposta ai piani primo e secondo, con vano di ingresso al piano terra con scala di accesso. Sito in via Stefano da Zevio 62 barra B, Zevio. Prezzo base, 136.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Francesco Mafficini, 0458-002226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 608 del 2015, lotto uno. Appezzamento di terreno edificabile. Sito in strada provinciale 17, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 40.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 608 del 2015, lotto due. Appezzamento di terreno edificabile. Sito in strada provinciale 17, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 44.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 624 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano primo con annessa cantina. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano primo sotterraneo. Sito in via Enzo Ferrari 70, Castelnuovo del Garda. Prezzo base, 100.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 627 del 2017, lotto unico. Infabbricato condominiale di edilizia residenziale popolare, piena proprietà di appartamento al piano terzo con cantina al piano interrato. Sito in via Giovanni Verardo Zeviani 43, Verona. Prezzo base, 74.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Erminia Contini, 0458104669. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 629 del 2015, lotto unico. Piena proprietà di terreni di superficie catastale pari a caetari 04, 34, 89. Sito in, Isola della Scala. Prezzo base, 101.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giulia Cerato, 0457613123. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 671 del 2014, lotto unico. Quota di un quarto, un quarto, di nuda proprietà e quota di un quarto, un quarto, di proprietà gravata da diritto di abitazione, di casa a schiera su tre livelli con annesso giardino esclusivo. Si precisa che, il diritto di usufrutto, non oggetto di vendita e gravante sulla quota di un quarto di nuda proprietà, è a favore di persona nata il 21 settembre 1968. Il diritto di abitazione, non oggetto di vendita e gravante sulla quota di un quarto di proprietà, è a favore di persona nata il 28 luglio 1947. Quota di un quarto, un quarto, di nuda proprietà e quota di un quarto, un quarto, di proprietà gravata da diritto pertinenziale autorimessa al piano seminterrato. Si precisa che, il diritto di usufrutto, non oggetto di vendita e gravante sulla quota di un quarto di nuda proprietà, è a favore di persona nata il 21 settembre 1968. Il diritto di abitazione, non oggetto di vendita e gravante sulla quota di un quarto di proprietà, è a favore di persona nata il 28 luglio 1947. Sito in via Italo Montemezzi 13, Sona. Prezzo base, 49.000 euro. Quota, quota di un quarto di nuda proprietà e quota di un quarto di proprietà gravata da diritto. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 40. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Anna Tragni, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 69 del 2017, lotto unico. Piena proprietà di fabbricato di vecchia costruzione, da ristrutturare, disposto su due piani fuori terra. Piena proprietà di pertinenza alle area esterna e servizio igienico allocato nella superfettazione. Sito in via Monterosa 8, Legnago. Prezzo base, 30.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15 e 40. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Aldo Corcioni, 0458352511. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 729 del 2016, lotto due. Quota di un mezzo della piena propri. Due appartamenti disposti ai piano terra, primo, secondo, area urbana della superficie catastale 219 metri quadri, area urbana della superficie catastale 201 metri quadri, area urbana della superficie catastale 1022 metri quadri, area urbana della superficie catastale 1437 metri quadri, porzione di rustico, ex-fienile ed axitalla, costituito da 5 magazzini di cui 4 al piano terra e 1 al piano primo, Porzione di rustico, ex-fienile ed axitalla, costituito da 4 magazzini di cui 3 al piano terra e 1 al piano primo, terreni adibiti a parco. Quota di un quarto di piena proprietà di terreno adibito a stradello. Sito in via San Giovanni 1, con camarise. Prezzo base, 99.000 euro. Quota, quota di un mezzo di piena proprietà, quota di un quarto di piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 811 del 2016, lotto unico. Piena proprietà di porzione di villa bifamiliare, consistente in un'abitazione al piano primo e mansardato. Piena proprietà di un'unità commerciale adibita a ristorante al piano terra con terrazza esterna per l'ospitalità estiva, collegati internamente tramite una stretta scala a chiocciola. Sito in località Marinoni 4, Peschiera del Garda. Prezzo base, 704 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Laura Ambrosini, telefono 04 57 68 02 56, fax 045 619 83 64. Grazie a tutti.